Borseggiatori scatenati alla Fiera dell'Oro che ha aperto i battenti 19 gennaio. Numerose le denunce presentate ai carabinieri di portafogli spariti tra una visita e l'altra agli stand. Stand di preziosi, fiera blindata, visto il valore della merce. Eppure i controlli non hanno ancora permesso di individuare i borseggiatori selvaggi in azione alla carica, pensando evidentemente che gli avventori della fiera avrebbero avuto i portafogli gonfi.